E no Ok E prego lo slu d'altro che è solito Mi metterlo più lontano Questo che non posso prendere Tipo il backslash Oh, quello vicino all'1 Oh, po' po' Oh, po' po' Oh, po' po' Pompì Oh, po' po' Oh, po' 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 Oh, po' 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 so vi Oh Oh Ok 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 Let's go again Mamma mia I'm gonna read you Oh I'm ready to read that I'm ready What is that? I didn't know That's what you talked about What is that? What is this? Yeah Yeah come si è venuto a te? se sei inclinato a più di chi vive in morte allora mi presento a Garank ho fatto un problema ma non è vero è vero ho fatto un po' di giocato è un po' di giocato e vi sento a Garank il giocato non è vero che non è vero se non è vero che non è vero tanto lo vuoi no? non era lì? WTF? guarda qua io tra l'altro è il forte in cui c'è l'altro l'altra metà del medaglione il palco in realtà capitale quel culo fa molto la gemella qua qui è? no? e tu? e dovrebbe essere un altro no? erano già quelli ok dovrebbe essere qua no? ah per si può andare da una mappa vabbè io ne ricordo lì poi androji devo andare da adesso cosa è? il mapa indicato che ci saranno a Garanc il giro di giro che è? il mapa indicato che ci saranno a Garanc che ci saranno a Garanc è che cosa è? ma già questo guarda qua ma non è vero così questi cazzo che ne viene per fi ma pure l'��ca i brinchi un po' di questo arrivi qua prendiamolo .. olinionionionionionionionionionionino onionionionionionionionino fatto è un po' più grande è vero? è vero? è vero, che hai detto? no no, è un po' Ah, non c'è il gioco. Non c'è il gioco. Ah, non c'è il gioco. Non c'è il gioco. Allora, diciamo che va bene, va davanti. Fermo! Alzi, hai corruto. Una volta che lei era qua, sovallo, sarà già sceso. Da radando. Ancora manca un pochettino. C'era là sotto. Il giulare qui. Oh, orzo, vieni a dormire. Avanti l'orzo. È un trappone su questo. Oh. Devo andare in mano, ascia. Faccio i caricati. Faccio molto uno specchio di pedacoli in salto. Oh, che fai, orzo? Ma che fai? Ma che fai? Un pochettino in salto. Un pochettino in salto. Oh, zon. È troppo bassi. Ecco, resta così. Oddio, l'ho fatto io. Tutta, no. Oh, zon. Ho preso. Anche a me. Vieni sulle scale. O che vedi sono i tuali? Me. Ho, così per super. Non ci stai, a passi. L'rore. Ho, vai! Ho, vai! E' un po' Kill'e C'è un po' che c'è una crash ok ok non mi è piaciuto incontrare il broschi che ha giù il bocca felici vabbè il 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 a al chum a 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 la stessa cosa di è giusto che sono gentile l'armaiolo guerriero nomade io forse in realtà ma possiamo per entrambi in realtà contento a 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 l'albero l'orso che sta grattando l'albero albero che sta grattando l'albero a 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 ma quanti ce ne erano? a 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 la stessa a 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 per scendere a 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 ok si cadeva di qua un altro o po' dici vita ma eeeh porco schifo a 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 Eccola lì E là Puoi scendere senza parte il parri cavolo Non ho richiamato l'ascensore Ahah Non ti ricordo di te Sto prendendo con la faccia da via Esatto, subito è a provare a rifare la stessa mossa di E' unico Ah E' unico assieme Ah E' unico assieme E' unico assieme Oh E' unico assieme E' unico assieme Ma comunque Certo E' unico assieme c'era per maggio poi nell'altra c'era quello grasso no 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 gli manca un gas no gli altri ah non è un problema fa un posto che ho s'applicato sono oh che schifo del mondo non si 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 non 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 è ahiii però io devo sentire morte qua eh ecco da schiette oh mi tocca madre e no andiamo a poter solo guarda non ho toccato no è un tattato volendo potrei toglierlo eh l'amuleto qui che la seconda volta non lo faccio proprio basta mica sembra oh voglio farla più otto guarda l'amuleto l'amuleto che non 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 Se vuoi costarne... Come, 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 come moretti... Eeeeh eh eh me perco Non muore Cazzo cazzo Pallami Pallami Non questo Pallami Pallami Pazzo del f*** Oh La palla La palla La palla La palla Scegli la palla Facile La palla La palla La palla La palla La palla Quella tutta Capito no? Quella? E' quella Quella cosa è dopata mi pare ci fosse un cazzo vero qui L'inglese si intendeva forti Guarda devo salire adesso la luna è sopra Dentro Se ne interramo Asù 109.000 animi scusami Quante arrivi è passate What? Quante arrivi ho voglia? Una ventina di mila Tipo 80.000 Noi Non importa Non si non C'è un po' sempre C'è un po' sempre Ehm Quanto arrivi C'è un po' sempre Quanto arrivi Quanto arrivi Quanto arrivi Quanto arrivi Questa buona cosa è sbloccata anche prima, non devi far trovare forza e prossimo Alve Alve Aspetti, io devo ancora uscire da questa galera qua Mi riapri il gioco, grazie No Quanta nebbia ragazzi Una torre Ah, la runa di Radan Una maggiore di Radan Ecco Ora giù ho finito Questa è una torre 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 ah ma se mi ha la merda e io porco di cazzo di cani li sto odiando a fare una pericola sicuramente a fare una pericola sicuramente dai porca tua ma che vuoi hai fatto cagare addosso dai trozzo colpo affatto dai no che stai qui che stai qui che stai 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 un po' di solito La mia macchia è di sangue E' fatelo un cristale di coppia Porca Quello E' calma capra Dai lì c'è Oddio ci vuole farlo Ma da là sotto a qua mi prendi Ma come cazzo si combina? Ma questo è pazzo Mi sembra un altro eccessivo Ragazzi Questa è 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 Entriamo, nello sempre con la lingua di fuori. Quella è quella che è? Ok, era questo. Chiaramente. E' un gioco. Andare. Persona. E questo. qui mi ha solo vinto perché non l'ho preso, scusi perché era vicinissimo questa gamba perché era scappato ho fatto sto stronzo questa grazia non l'avevo neanche presa la legge di vita tu, 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 tu oh, grazie oh, oh, oh sei tu, al sud un grande al sud ma tu tu voglio che gruppetti non ci passa ti arrivi si, arrivi ma come un boss mi vengono a prendere e mi vengono a prendere e mi vengono a prendere e mi vengono a prendere arrivo ma poi mi vengono a prendere Grazie a tutti. 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 Come potete capire dove funziona questa cosa? Perché il cervello non c'era? Perché Mi hai evocato Perché alla fine sono entrato con te Appunto Infatti mi sembrava strano Che se io facevo le cose da te Da me Che cazzo significa Che i due mondi sono separati La fine funziona come il derringo normale Overe all'arma Fatta Non lo sto trovando nemmeno io E' una lancia Quanto l'ho fatta io? La più 6 L'ho fatta più 3 Però io dobbiamo posso E' una potenziale Il 3 glielo diamo Ho trovato anche la La pietra funeria Più 7 e più 8 Non la userò per questa Non la lavato 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 che bello che poi ci dice Dio a Remus non sia il nostro corso è vero è vero senza No, 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 no. Lichas, ii , ii ...dia vanno a scegliere... ...oh i amato... ...e che è il caso di farlo... Ah, c'è l'abbiamo, c'è schismale. Oh, we can devour our gods together! TOGETHER! Unlucky, sono morto! Andare anche in live! Altro video! E' una salsiccia! E' un po' di più 4! E' quello qui! Mi permetto un più 4! Ah, non ce l'hai fatta! E' un po' morto! Well, I took you for death, no matter, it's all the story, how do you help me? Già fatto Ah, f*** Ah, sono le anime giustamente, un po' sono un po' di zara 1600 Che bello, è arrivato Ehm, manga di Enderry Poi La batteria, le batterie Non sto correndo, non sto correndo Allora Nermata Esatto Ha possibile conciuto un più 4, che un po' merita Allora Ehm, perché ne hai trovato soltanto una di più 6, no? Cioè, cosa hai trovato? Non sai che ti serve a te Il più 6 e il più 7, eh? Oh, ce l'ho, posso fare, ho detto, gli concedo io Ah sì, ma potenzialmente che vuoi Non vuoi Se vuoi altre pietre, io ce l'ho Tanto io sono l'altra più nuova Ce l'ho le pietre, voglio spagarle in questo, lo userò mai più Non so Non so Non so Non so Mi sfida la spada Eccolo Vai, 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 vai Vai ci metà ora la camera dove buttarci accordo delle audienze il danno c'era qui ti devo dire non mi levava nemmeno più così tanta vita rispetto alla prima volta dove mi levava metà vita ma ora siamo 90 è tolto pure l'arma che bello ripropon ripropon Perfetto. Raikard proprio non gli piace Orso E' una faccia in pace, era la seconda in video Ma quando è che c'è un drop in quest'area? Sì, non so nemmeno che cazzo vuoi. Ah ho provato ad entrare Oh il porco di Mi piace il mondo Raga l'ho appena fatto non mi ricordo più Tu lo devi fare Sì è bello No perché mi è andato via Non mi ricordo Non mi ricordo che ho richiesto il river Non volevo far ciò Ma por cattolo era appena entrato Madonna io non capisco perché questa mossa ogni tanto va in shot Ogni tanto no Era anche bello lontano Tu dovevi essere più debole più in là Tutto l'anima Vedate le mie palle No erano zero Vedete le mie palle ma lo schifo Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. Photoshop. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Voi dove stanno? Lancia! La lancia! Aaaaaah! Fido, non mi sto dando un attimo! Fido, non mi sto dando un attimo! Oddio! Dai! Non mi sto dando un attimo! Non mi sto dando un attimo! Non mi sto dando un attimo! Perfetto! Ok, vado a cucinare! Ok, vi ho arrivato a casa! Ciao! 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 Non è caduto un attimo! Fido, però perché non ci sono arrivati a otto ore! A otto ore! A due! La sera dove io passo avanti proprio! Sì! Che se! Il mio dono era pronto! Domani questo guinamento non glielo fai! Mi faccio un'abbiata a me in... Sai cosa? Molto questa mi ha affatto! Infanto ho capito che la usavo non al proprio! Questa è la sua! Che è la sua! Non ce l'ho ancora ancora! Allora più otto non lo vio farà! Ma, non ci trovano gli altri! E tu, per il rolewinding, altra arma ipotetica, oi. Ma sembra che non ho le anime, però. La cosa piccola, cosa molto importante, è un'automata rune. Guardate che non è il termine. È rotta la dodici ore. No, non sono più quarti. E non sono niente. E rientra, rientra. Ma guarderebbe. Allora. Non lo guarda. Non lo guarda. Vai, riusci. Ponta. Proprio dice, no, no. Non ti vede. Invece, se riesco, prendo i cani e scappo. Non t'exco. Ma guarda. Non, dai che andala. Non, dai. Ai, non lo guarda. E' un po' più lentamente posizionato, sono un po' più veloce a farlo Di un lento incredibile Così in te sono fuori E' un po' più lentamente E' un po' più lentamente si, 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 si ok gioco il finale ando proprio una volta e basta no vale atto e i 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